Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Vaticano per la visita di Stato col Papa, col fardello del suo calo di consenso in patria. Nel palazzo apostolico ha raggiunto la sala del tronetto in corteo. Il saluto col Papa è stato cordiale, con un Macron molto sorridente, che ha ringraziato il pontefice. I due si sono seduti alla scrivania della biblioteca, uno davanti all'altro, scambiandosi ancora battute con fare sorridente, mentre a loro si univa come interprete un prelato della segreteria di Stato. Dopo gli anni difficili della presidenza Olanda, che appoggiò la legge sui matrimoni omosessuali e dopo soprattutto il braccio di ferro sull'ambasciatore omosessuale Laurent Stefanini, respinto dalla Santa Sede, il Papa cerca nel presente francese un alleato contro l'avanzare degli estremismi di destra in Europa. Macron, sebbene abbia studiato dei gesuiti e sia stato battezzato a dodici anni, si dichiara agnostico, ma riconosce che con Papa Bergoglio le convergenze sono molte, non solo sull'approccio all'immigrazione, la diplomazia in Medio Oriente, il Centrafrica. L'unico colloquio telefonico avvenuto con il pontefice risale però al giugno scorso, quando Trump decise di ritirare gli Stati Uniti dall'intesa globale per la lotta al riscaldamento climatico. Papa Francesco ha regalato al presidente francese una medaglia di San Martino, vescovo di Tur, tra i grandi santi della Gallia, celebre per l'episodio in cui cedette il suo mantello ai poveri.